Grazie a tutti. Era mio padre, che qui era antico, pure, era... Sapeva farlo anche suo padre. Signora, e lei ci crede? Ma, non lo so. Però loro ci credono tanto. Loro, cioè i vecchi, che qui rappresentano sempre la tradizione, che si affida spesso alla poesia. Mescola, mescola, dice un canto popolare. Hai tirato il grano dalle foglie, hai tolto al tempo il senso della morte. Mescola, mescola, e indovina la tua sorte. È davvero questo gesto all'aria del sortilegio. Questo che giunge da lontano è il canto di un uomo. È un uomo che passa un'ora dopo la mezzanotte col suo mantello, con la sua ombra. La vecchia è soddisfatta. La sorte sarà propizia alla creatura che nascerà. È maschio, è maschio, è maschio, auguri, è maschio, è maschio, è maschio, auguri. Ecco, ancora una volta, il fuoco ha raccontato una favola. La vecchia è stata un'ora dopo la mezzanotte colazione. Anche la storia, quella non troppo remota, diventa qualche volta favola. E i ragazzi affascinati la rivivono nei loro giochi. Fu in un'alba livida del 1861 che decisi di darmi alla macchia per difendermi dalle insidie dei ricchi e dei potenti. E nel giro di tre anni percorsi con la mia banda le deliziose terre di Puglia e Basilicata, compiendo ovunque depredazioni ricatti, talvolta sfuggendo le truppe, talaltra attaccando all'improvviso, spesso con l'agguato e con l'insidia. Ferito quattro volte, ho visto cadere ad uno ad uno i miei più fidi, Ninco, Nanco, Masiello, Rocco Serra, Grippo, La Rocca, ed ebbi dolorosi abbandoni da compagni già carissimi. Signore e signori, ascoltate, ha inizio il racconto della storia di Carmine Crocco, detto Donatelli. In quei tempi remoti e lontani, quando i resi chiamavano borboni, e i signori potenti baroni comandavano senza pietà. Voglio ai brigati! Crocco, il pastore di Rionero Involture, che da semi-analfabeta diventò generale dei briganti, ci ha lasciato nelle sue memorie una testimonianza lucida e agghiacciante della sua vita di fuorilegge. In Basilicata, le vicende che accompagnarono l'unità nazionale sono spesso legate alle storie di questi briganti, che nella loro sostanza amara hanno espresso il pessimismo e la protesta di una società sconvolta dalla miseria e dai soprosi. Non c'è paese, non c'è viottolo che non si è servito a un'imboscata e non c'è episodio che non si è entrato ricco di stupori nei giochi dei ragazzi. Ma cento anni dopo quell'avventura, che pur nella sua realtà squallida ha avuto un peso determinante nell'evoluzione del mondo meridionale, come viene considerata la presenza dei briganti della gente lucana di oggi? C'era uno che si chiamava, dicevano, che era Nicola Mariola, l'hanno tagliato la testa in campagna e ce l'hanno messo in piazza. Le considero che erano persone che avevano ragione, come può succedere anche oggi questo. E tanni, chi lo sa? O non c'era legge, ma che ti capisci? Una volta che era brigantaggio. Quando passo di cà, passo da notte Paura non ti tegno in un già parte Sopra le squadre porto l'otto potte Tali sacchetti porto l'armicurte Ho raccolto questa ed altre ballate girando in Lucania sui sentieri dei briganti. In molti villaggi e masserie a più di cento anni di distanza la gente parla ancora di Crocco, Ninco, Nanco e delle loro imprese. Ecco Avigliano a pochi chilometri da potenza Patria di Ninco, Nanco. Un anziano del luogo racconta l'assalto al paese tentato dai briganti. Ninco Nanco ha mosso contro questo con della galleria e soldati a piedi. Si portò fin sotto le mura qui dietro le rocche e proprio nella zona qui Fontanella, denominata Fontanella, avvengono gli sconti. Incominciarono le ingiurie tra Aviglianese e lui, ingiurianto che non aveva rispetto né dalla famiglia né dei parenti né di tutti. e dopo di ciò passarono immediatamente ai fatti. Tra quella finestra un certo D'Andrea, se non sbaglio Vito Antonio, vide un brigante. Un brigante lo ferì. Questo a sua volta riconombe il D'Andrea e gli dice guarda, noi ci deveci, a noi ci deveci. Effettivamente lo sparò e lo colpì. I briganti ebbero la peggio e li ripiegati. Proseguendo per 30 chilometri tra le colline Brulle si arriva Rio Neri in Voltre il paese di Cambio e Corocco il più celebrato dei briganti lucani. Più volte i briganti irrupperò spavaldi per questi vicoli. A poca distanza nei boschi del Monte Vulture attorno ai laghi di Monticchio Crocco e la sua banda vivevano alla macchia. Ogni tentativo di scovarli era inutile. Ho ritrovato questa ballata a Rio Nero. Così la madre di Crocco piangeva il figlio braccato fra i boschi. Carmenuzzo, Carmenuzzo Tutto il mondo i dia slagna Tu vorrissi meglio porto che bandito alla campagna Altri 15 chilometri di strade fra i boschi ed ecco che compare la rocca di Melfi la città che tributò onore da trionfatore al generale Crocco e alla sua banda. Siamo venuti a Melfi per ristabilire l'ordine della giustizia. I Miamondesi che Dio li strambaledica la giustizia l'hanno lavata ma noi la rimettiamo per forza! Tornando verso Potenza un altro maniero domina la campagna è il castello normanno di Lago Pesole e da qui che si davano convegno le grandi bande di briganti. E qui i briganti furono dispersi 106 anni fa da allora nel castello c'è una piccola stazione di carabinieri. ci avviciniamo a Frusci la contrada dove fu inseguito e ucciso Ninko Nanko i vecchi lo chiamano ancora il limite il punto di arrivo di Ninko Nanko di Nanko ci dall'inforzare Fu miso n'inco un anco, sopra all'ucata a letto, li brazza miso in cruci, tra lo viruto petto, lo morto e curi morti, non si ne parla chiui, ma c'è qu'un ol' scorda, li malefatti sui. Ma Crocco e la sua banda si spinsero anche molto più a sud. Passarono sotto le montagne orride di Albano e Pietrapertosa. Dall'alto di questi villaggi la gente vide galoppare i briganti verso i paesi al confine della Puglia. Grazie a tutti. Questo è Grassano, uno dei tanti paesi bianchi raccolti in cima alle colline. Un vecchio, quasi centenario, c'era ancora oggi con Crocco e Ninconanco che per via di una oscura storia di donne mozzarono le orecchie a suo padre e a un altro della famiglia. Negrange Crocco. Crocco e Negrange. Lecchie mozze, lecchie mozze, lecchie mozze, lecchie mozze, lecchie mozze. Oltre le gole del Bradano appare alta nel cielo l'abbadia di Montescaglioso. Qui le leggende, come in Puglia del resto, non riguardano più il generale Crocco e il suo logotenente Ninconanco, ma piccole e feroci bande locali. Erano uomini crudeli che punivano con una morte orribile le spie e i traditori. Miguzzo Foco, brigante e analfabeta per attuare i suoi turpi ricatti, soleva spedire le orecchie dei prigionieri allegandole alle lettere che la sua compagna segretaria, una certa Padovella, scriveva per lui. Padovella pensava e scriviva, vostro figlio l'avimo pigliato e naricci ci avimo tagliato. E staricci che è frisca e che è russa, va spedimo per l'interespressa e se poi non graditi chi giaggia, basta solo che voi ci mandate una cascitta con mille ducati. Cussimi, cuzzo, chi erano briganti come a tanti, ma ignoranti come un davi pochi, diventa l'ubbrigante conosciuto come alla meglio pinna da contrata. E ogni giorno partivano solleciti richiesti, pacchetti, pacchi, lettere e minacci e ogni missiva aveva in allegato una ricca, un occhio, un pedo, un naso, un dito. Padovella pensava e scriviva, non mandastevo un urdu ducato e una mano ci avevo tagliato e frattanto aspettiamo e tagliamo fino a quando la pratica è in corso non si estingue automaticamente sia lo vostro stimato parenti non potremo tagliare i più denti. Questo suonatore è uno dei pellegrini che ogni anno vengono da tutta la Lucania al monte della Madonna di Vigiano. Sono due i pellegrinaggi ai quali partecipano decine di migliaia di fedeli. In maggio la statua della Vergine viene portata a braccia dalla Basilica di Vigiano alla Cappella sul Monte. In settembre si compie il percorso inverso, in discesa. In maggio c'era il sole, adesso piove. La statua venerata pesa quintali. Trasportarla è una dura fatica. Nessun ostacolo però è mai riuscito a fermare il pellegrinaggio. nemmeno quando non esisteva la strada e si saliva a piedi nudi sulla pietra in segno di penitenza. Nessun ostacolo Giunti in vetta, i gruppi si riuniscono. Ciascuno sosta dietro le insegne del proprio paese. Qui si viene per pregare insieme ma anche per rappresentare la terra in cui si è nati. Perché venite qua? E' un bravo, Madonna. E' stato ammalato mio figlio e vengo a fare la vista alla Madonna. E' un ricordante i nostri piccati, i vostri piccati. Che facciate? Eh, la Madonna aiuto. La Madonna aiuto, mi sei un bannoglio. Veniamo dal nostro paese perché siamo dei devoti della Madonna di Vigiano e anche perché la mia famiglia ha ricevuto le grazie da parte della Madonna di Vigiano. E vorrei spiegare un po' questo fatto che si verifica qui ogni anno e che si tramanda di secoli, possiamo dire. Secondo me ci deve essere qualcosa di dentro che sentiamo tutti quanti. Di fatti qua veniamo da tutti i paesi e una volta riuniti qua tutti, ci sentiamo tutti fratelli. Insomma, c'è qualcosa che ci unisce, ci lega. E questo lo dobbiamo proprio alla Madonna. Il pellegrinaggio gira intorno alla cappella sul monte, edificata nel luogo in cui la statua della Madonna fu nascosta circa 900 anni fa e ritrovata in epoca più tardi. Ogni piccola comunità paesana trasporta un castelletto votivo che si chiama centa o cinto perché è fatto con cento candele. Accanto ad ogni centa c'è una sorta di lavaro sul quale vengono appuntate le offerte. Ciascuna banconota offerta alla Vergine esprime il ringraziamento per una grazia ricevuta oppure il pegno di un voto al quale si accompagna una richiesta. Dopo avere partecipato alla messa ed essersi confessati e comunicati, i fedeli si mettono in fila per toccare la teca dorata che custodisce l'immagine della Vergine. La statua risale ai primi secoli della cristianità. Il volto della Madonna e quello del bambino sono di legno dipinto di un colore olivastro scuro. Hanno gli stessi lineamenti teneri e fissi con un'incantevole semplicità di taglio. Alcuni bambini lasciano qui i loro abiti. Anche questo è un voto. Questa è la fossa in cui i fedeli nascosero nell'undicesimo secolo la sacra immagine per salvarla non si sa bene se dai conoclasti o dagli invasori saraceni. La chiesa è stata poi eretta intorno alla fossa. Tra oggi e domani quante persone verranno qua su? Eh, è che ne può sapere di quanta persona possono venire. Per lo meno possiamo arrivare, forse 30 o 40 mila persone per tutti quanti, anche in paese, anche dei visitatori che vengono sul mondo, no? Lei perché viene qui? Per fare il pellegrinaggio. Perché abbiamo molta devozione, siamo di Caggiano. Caggiano è vicino, quanti chilometri sono? 100 chilometri. 100 chilometri. Bene. Dove avete cucinato questa roba? A casa vostra prima di partire? A casa nostra, sì, abbiamo preparato questo pellegrinaggio e abbiamo preparato la consumazione a Caggiano e la consumazione la facciamo a Vigiano. Senza fuochi artificiali non è mai una vera festa. Così si preparano per la prima serata del pellegrinaggio ranzi e mortaretti. Quanti chili di esplosivo c'è qui? Eh, più di 100 chili. Per il finale, comunque, poi le bombe, chi lo sa, quando ne vogliamo noi. Non è pericoloso questo mestiere? Ma abbastanza. Comunque si fa anche per disfazione, per... Per soddisfazione, per il mestiere nostro è comunque un mestiere veramente che... Ci siamo appassionati, guardate, non è questione... La Lucania ha una forte tradizione musicale. Per chi ama queste curiosità, diremo che negli intervalli in televisione ascoltiamo il suono delle arpe di Vigiano. Questa è una canzone di Pietro Basentini, un cantautore polka. L'ho lasciata, sei carina, sopra la cronetta, l'ho lasciata, l'ho bretta. L'ho lasciata, l'ho taratura, l'ho lasciata, l'ho maccatura. L'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho manuna. L'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho lasciata, l'ho lasciata. Non so se non possiamo, dove mi tiene vetture. e non balli i buvi reddi, io Matalena, Matalena, metti l'acqua lo sirene, casi nulla metti, ma non canta, non sa, no, Matalena, Matalena, Matalena! Si è fatta sera, si accendono le luminarie. Nella strada principale di Vigiano è stata allestita la fiera, il pellegrinaggio è espressione di fede religiosa, ma è anche un'occasione di incontro, gente che arriva anche da lontano e può trovare nuove conoscenze fra le giostre o fermandosi ad una bancarella dove si taglia la salsiccia paesana e si servono dolci. Torna a snodarsi la processione, le fiaccole illuminano la sera, la gente si è mossa dalla basilica di Vigiano e percorre le strade del paese, è un anticipo della processione più solenne che riprenderà l'indomani, quando la statua sarà riportata dalla cima del monte al tempio di Vigiano. La parte religiosa è finita per oggi, è il momento dei fuochi, colori nel cielo nero, festa per tutti. Poi si va a riposare, la giornata è stata faticosa. All'alba della domenica, sul monte ancora avvolto nella nebbia, i pellegrini si rimettono sulle spalle la statua della Vergine, che è stata rivestita nel Medioevo di oro zecchino. Discendono la china ripida che porta al paese. Sono quintali da trasportare, ma ogni paese si contende questo onore. Lungo il percorso, la gente aspetta il corteo. Avere fede non impedisce di avere allegria. Basta il suono di un piffero campagnolo per cominciare una danza fra donne, con passi che in altre regioni sono stati dimenticati. La processione con la statua sta arrivando. La folla si accalca per vederla, ma sta succedendo qualcosa. I tratti di percorso sono assegnati ad ogni paese secondo criteri rigidi, per evitare discussioni. Ma si discute lo stesso, perché ciascuno vorrebbe tenersi la statua per qualche metro in più. In questo posto l'anno scorso, la gente di Vigiano e quella di un altro paese, Caggiano, ha litigato per una questione di pochi metri. Era stata fatta una rettifica al tracciato e i due paesi rivendicavano ciascuno il privilegio di mantenere in quel tratto la statua sulle spalle. È una specie di questione d'onore e c'è anche un problema di responsabilità verso chi è rimasto al paese. Quelli di Caggiano non vogliono cedere. Il blocco del corteo dura un paio d'ore, fra dispute e scambi di accuse. Difficile capire chi ha ragione. I paesani di Caggiano sperano che con il passare del tempo i vigianesi cedano sotto il peso della statua, ma i portatori resistono. Infine i Caggianesi devono rassegnarsi e il corteo può ripartire. Le teche sono adornate da offerte e immagini votive. Il corteo ha trovato una nuova collina. Più tardi riprenderà la discesa verso il paese. Canteremo in compagnia, grideremo viva Maria. A Vigiano la folla attende su un piazzale che ha preso il nome da Papa Giovanni. Sta cantando un prete che potrebbe figurare bene in un teatro, almeno come potenza di voce. C'è una messa solenne. Poi, finalmente, la statua della Madonna torna alla sua sede abituale, la chiesa settecentesca di Vigiano, elevata all'onore di Basilica. Ancora una fermata sulla soglia della chiesa, perché la moltitudine vuole vedere la statua e avvicinarsi. Chi ha fede prega, chi non l'ha sa capire l'intensità del momento. Siamo agli ultimi momenti della grande processione. Famiglie intere, con i bambini intimiditi, sfilano davanti alla statua, la toccano, chiedono qualcosa o non chiedono niente, in silenzio, con venerazione. La statua resterà qui fino al maggio dell'anno prossimo, quando sarà riportata sul monte. Poi verrà un altro settembre e verranno altre stagioni, come succede da centinaia di anni, senza che si spengano la fede e la tradizione. E senza che diminuisca la generosità dei fedeli. Qui a Vigiano si mantiene un orfanotrofio grazie alle offerte dei pellegrini. E' terminata la cerimonia, non la festa. Le strade rimangono affollate, i gruppi paesani tornano a riunirsi. Per ripartire c'è tempo. Si balla la tarantella negli antichi costumi. Nella piazzetta si raccoglie ancora una platea di spettatori. Adesso la festa è finita davvero. Piazzetta si raccoglie ancora una platea di spettatori. 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 soprattutto solitudine e silenzio il contadino il boscaiolo il pastore il bracciante è quotidianamente alle prese con la natura il suo unico dialogo è con l'albero che sta potando col gregge che conduce al pascolo con le zolle che sta dissodando con le spighe di grano bruciate dal sole è in queste interminabili ore di solitudine che il contadino si accompagna con canti d'amore filastrocche laudi satire che sono ricordi di tempi lontani questi canti rappresentano un patrimonio di grande valore culturale per il nostro paese che ha un'antica tradizione contadina un patrimonio che in questi ultimi tempi si è cercato di recuperare in quasi tutte le regioni nella basilicata invece poco o nulla è stato fatto i primi studi firmati da ernesto de martino noto studioso di etnologia si riferiscono al sud della regione mentre per l'alta basilicata soltanto oggi si sta cercando di recuperare ogni elemento culturale che ancora vive con gli ultimi rappresentanti del mondo contadino che sono le fonti più fedeli questo lavoro di ricerca viene condotto a melfi da alcuni studenti universitari del gruppo degli interventi culturali un'associazione nata da alcuni anni tra giovani poeti narratori e cultori di tradizioni popolari la carità non ha limiti carità è anche la parola di incoraggiamento che si rivolge a chi attende ad un'opera di beneficenza questa parola io chiesi in tutti gli istanti la chiesi nella via nella casa del signore nella dimora degli umili e dei ricchi che molte volte le e mi confortai dal diario di don pancrazio toscano un umile prete del sud che 50 anni fa in un ambiente funestato dalla povertà e da lunghi ostinati dissidi affondato a tricarico in provincia di matera l'opera pia di sant'antonio che accolse tra l'altro il primo mendicicomia della basilicata fu un'istituzione unica per quegli anni in una regione dove spesso si restava soli per i frequenti malinconici esodi don pancrazio che ricordiamo a dieci anni dalla sua scomparsa fu un singolare prete questuante dei nostri tempi costruì edifici aprì strade architetto ponti con il solo aiuto della buona volontà in altre parole fu un pioniere ed ebbe uno stile lo stile dei tempi difficili in generale al vecchio si pensa molto poco egli è prossimo ad abbandonare il mondo e prima che egli l'abbandoni viene abbandonato queste considerazioni facevo con me stesso e mi torturavo nell'ansia di portare un rimedio a questo che è un grande male sociale pensavo alla necessità di un ricovero per i vecchi della mia terra provavo un profondo senso di pietà vedendo la miseria cenciosa trascinarsi per le vie e la pena cresceva vedendo i vecchi respinti dalle porte insultati dai monelli nelle pubbliche vie volevo chiudere quelle miserie metterle al sicuro un uomo simile come don bangrazia a tricare non c'è stato mai vorremmo che ne fossero molti per cambiare la faccia del paese così come è stato fatto finora noi lo ricordiamo da vecchio in effetti fu più giovane di noi perché capì quello che era il suo compito anche 30 anni fa don bangrazia era un uomo buono 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 e più buono di tutti io sono una signora straniera americana venuta qua per ragioni di lavoro tanti anni fa e ebbe occasione di conoscere don pancrazio toscano che era un prete che sembrava non prete ma quasi pugile per la tenacia sua che non non lasciava mai andare un lavoro un'idea una volta che l'ha preso un esempio non non so sarebbe il ponte che ha fatto fare con 40 anni di lavoro che collega il paese con una strada che porta nei campi lui non ha mai lasciato andare scoraggiato si mancavano i soldi ma lui sempre con l'idea che questo risparmiava ai contadini un po di tempo così valeva la pena a lui quei contadini con le facce di ieri e con tutto il bagaglio delle speranze che nascono e crescono giorno per giorno nell'attuale mondo meridionale gli hanno eretto un monumento servirà per tutti quelli che verranno dopo per i quali quest'uomo che sapeva innanzitutto parlare di dio potrà senza dubbio costituire un programma io lo conosco questo fruscio di canneti sui declivi aridi contesi dalla frana e queste rocce magre dove i venti e le nebbie danno convegno ai silenzi che gravano a sera sul passo stanco dei muli povera di molte cose la basilicata possiede una ricchezza sottile e invisibile la poesia è un capitale antico dalla cadenza immutabile che crebbe e maturò per una breve stagione anche nel cielo di isabella morra isabella 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 nel nome le donne di valsinni si tramandano la storia dolente di una poetessa che 400 anni fa morì tragicamente nel castello del paese nel quindicesimo secolo valsinni era dominato dai baroni di favale erano nobili violenti e senza scupoli e tenevano in soggezione tutti gli abitanti del paese isabella morra una delle più note poetesse del cinquecento una fanciulla sensibile e appassionata discendeva da quei baroni a valsinni visse con molta tristezza la sua vita quella che detta la fiorita itade secca ed oscura solitaria ed erma tutta ho passato qui cieca ed inferma senza saper mai pregio e beltale per lunghi anni isabella subì la violenza dei fratelli che la tennero prigioniera nel castello del paese in seguito sospettando di una sua relazione amorosa con un nobile spagnolo la uccisero a colpi di pugnale fu una vicenda che commossa e indignò anche i potenti dell'epoca ma gli abitanti di questo paese lucano la vissero come una favola secondo una leggenda assai diffusa qui isabella morì alle tre di un pomeriggio di dicembre sono passati 400 anni e la suggestione di quella credenza che ancora oggi viene ripetuta a mezza voce con tutto il fascino delle invenzioni di cui è ricca la fantasia popolare ripropone quasi ogni giorno in quest'ora stranamente evocativa la figura dell'infelice fanciulla il signor gioachino rinaldi è un custode fedelissimo della memoria di isabella anche perché vive addirittura nel castello dove la poetessa fu trucidata dai fratelli ora cosa è rimasto di quell'epoca? è rimasto tutta la parte esterna tutto ciò che si vede estremamente la torretta, la discuderia, il corpo di guardia Isabella parla sempre di un fiume nella sua poesia, questo siri che scorre a Piavarsini invatti quella è la torretta dove si facciava la poetessa dicono in paese che quando il fiume è in piena si sente il grido di Isabella che chiede giustizia è comunque certo che al sin pochi giorni prima di morire dedicò le sue ultime rime torbido siri del mio mal superbo orchio sento da presso il fine amaro fatto un noto il mio duolo al padre caro semmai qui il torna il suo destino acerbo dilli come morendo di sacerbo l'aspra fortuna e lo mio fato avaro inqueta l'onde con crudel procella e di me a crebersi mentre fu viva non gli occhi no ma i fiumi di Isabella eccoci a Montalbano la sera della festa da 50 litri da 50 litri inna 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 Grazie a tutti. 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 Vi mostreremo adesso la processione del Venerdì Santo a Barile. Noterete la gravità con cui la sacra rappresentazione è condotta. Grazie a tutti. Dietro il Cristo che sale la via Crucis si vede una zingara che simboleggia il mondo avido di ricchezza e si pavoneggia spavalda portando su di sé tutti i monili d'oro della cittadina. Infatti i carabinieri le stanno dietro. Grazie a tutti. Un'altra innovazione è nella veronica. Un'altra innovazione è nella veronica. La faccia del Cristo le rimane stampata sul grembiule. Grazie a tutti. Ciascuno ha probabilmente ritrovato in questa antologia di immagini un volto, una storia, una vicenda che ha conosciuta, una vicenda che ha conosciuto e alla quale ha partecipato. Sono quelle immagini che abbiamo ritenute più indicative fra le tante che la televisione presenta ogni giorno a milioni di persone in tutta Italia. e bastano a volte a far conoscere in un anno nell'intimità della propria casa quello che altrimenti non si potrebbe vedere nel corso di una vita. Grazie a tutti.